Sulle finestre ancora i segni lasciati dall'azione dei ladri che nella notte tra martedì e mercoledì si sono introdotti nel campus dell'Istituto Cerletti di Conegliano. Indisturbati hanno girato tra i vari edifici, nella sede centrale della scuola, nella bottega del Viner, nella zona dell'area nord e nel ristorante del Noteca Veneta, evitando però di entrare nelle aule universitarie, dove avrebbero potuto essere ripresi dalle telecamere del sistema di videosorveglianza. I banditi, alla ricerca di soldi, hanno scassinato i distributori automatici di merendine e bibite. Alla fine sono fuggiti con un bottino di circa 1000 euro, rubati con tanti, un cellulare e quattro computer collegati alle lavagne multimediali che dovranno essere ora riacquistati per consentire ai docenti di continuare normalmente le lezioni. Poi ci sono stati dei danni relativi proprio all'intrusione attraverso le finestre e alla tastiera del nostro sistema di allarme. Sistema d'allarme che però non è bastato a fermare i ladri. Non sono sufficienti, ci doteremo sicuramente a breve termine di sistemi molto più complessi. Immediate sono scattate le indagini dei carabinieri di Conegliano per risalire ai responsabili. Resta l'amarezza di questo comportamento illecito e del fatto che non possiamo mai essere tranquilli neppure in un ambiente scolastico.